Ciao a tutti, qua stiamo cominciando la festa per Babbo Natale di oggi, perché Babbo Natale oggi pomeriggio verrà qui a ricevere le lettere dei bambini e intanto stiamo preparando anche il banchetto di appaio, dimmiamolo come voglio, vedete a vedere. Il comitato civico Noi di Noviglio ha voluto rallegrare con una giornata festosa un paese definito da molti dormitori. Non poteva mancare Babbo Natale, sempre pronto a ricevere le lettere dei più piccoli, splendidi cani di appaio come voglio, in cerca di una famiglia che li accolga a braccia aperte, un cartellone creato dalle ragazze di miagolo come voglio. Questi sono gattini e un collega, li ho salvati proprio qua a Noviglio, sono stati salvati perché erano qua sulla strada e li abbiamo catturato e trovato a casa tutti loro. Molto divertente è la gara di bellezza e bontà, assaggi e foto per scegliere la torta più bella, calda rosta e bimbrolè per tutti e ricavato è servito per comprare materiale scolastico per le scuole di Noviglio. È sempre un piacere vedere il paese in festa e Noviglio si merita questo. Grazie, ciao, ciao, buon Natale, ciao.